Era da tempo che questa brutta pagina di vandalismo urbano doveva essere chiusa. Facciamo un passo indietro. I soliti idioti durante la notte di Capodanno avevano pensato bene di festeggiare il nuovo anno all'insegna della stupidità, danneggiando irrimediabilmente il monumento che ricorda l'opera dei Calafà, i maestri da Schaffanesi, uno scheletro di barca da pesca su due basamenti in pietra. Da alcuni giorni l'opera è stata riposizionata e riportata al suo originario splendore dalle ditta regresso Procivitate, con un costo per la comunità di oltre 6.000 euro. Abbiamo avuto qualche problema perché ovviamente mentre quando era rotta si poteva trasportare senza difficoltà, per ritornare appunto a Sassonia abbiamo dovuto organizzare un trasporto eccezionale in quanto la barca è appena più grande rispetto alle norme consentite dal codice della strada e quindi anche così ho spiegato un po' il ritardo che abbiamo avuto nella riallocazione. Adesso è bello, ritorna allo suo splendore iniziale e speriamo che non sia più oggetto di atti vandalici che l'avevano in un certo senso rovinato. Ecco, la passeggiata qui della Sassonia sta ricevendo alcuni interventi di riordine di ripristino, non ultime le panchine anche. Abbiamo rimesso a posto il movimento ma abbiamo anche rimesso a posto quelle piazzole che erano state pensate negli anni 80 come luogo di ritrovo dove la gente potesse anche chiacchierare. Le abbiamo sistemate, abbiamo rimesso i nuovi arredi che pensiamo possano essere anche più durature dei vecchi in quanto abbiamo sostituito il legno del cemento che è anche gradevole all'occhio ma comunque anche molto più resistente e quindi stiamo facendo passo dopo passo in una programmazione ovviamente necessariamente pluriennale un lavoro di riqualificazione della passeggiata di Sassonia.